Questa è davvero un ovocco un po' particolare, diciamo per chi vuole il massimo delle prestazioni e non ha problemi nei consumi, insomma nata per sbalordire fuori con il suo look esagerato e dentro spinta da un motore 2 litri turbo a benzina da 240 cavalli. Un'auto bella e vincente perché fa girare la testa ai passanti e potente al punto giusto. Ovviamente anche questa versione, nell'ottica della riduzione dei consumi e delle emissioni, viene equipaggiata con un benzina di ultima generazione con cambio manuale a sei rapporti provvisto di sistema start and stop che spegne e avvia automaticamente il motore nelle brevi fermate. In alternativa si può comunque avere l'automatico. Accomodandosi a bordo dell'Evoque, ci si trova dentro un abitacolo che si rifà per lusso ed eleganza a quello della sorella maggiore Range Rover. Su strada un comportamento che è all'unione dello stile di guida tipico di una berlina di classe superiore a quello di una coupé grintosa e sportiva.